Addizionale IRPEF raddoppiato come si temeva, a Pescara si passa dal 4x1000 all'8, tutte trattenute sulla busta paga, esenti solo i cittadini al di sotto dei 15.000 euro. Arriva poi la notizia che per rimpinguare le casse comunali il sindaco mette in vendita 85 beni immobili che, secondo le stime, dovrebbero fruttare oltre 10 milioni di euro. Unica controindicazione, secondo i grillini, che per inciso erano contro l'aumento delle aliquote IRPEF compresa, tra questi beni esistono edifici storici. Siamo di fronte a un curatore fallimentare più che a un sindaco, noi stiamo attendendo infatti con ansia quando il giorno in cui il sindaco deciderà di fare il sindaco e prendere quindi una direzione. Non c'è prospettiva, non c'è direzione, non c'è un'idea e la vendita degli immobili, tra cui il ferrotel, rientra all'interno di questo quadro. Si intende mettere nuovamente in vendita un immobile che è stato già messo in vendita più volte e mai venduto, con un'ipotesi di rientro di 5.300.000 euro. Ma la domanda è, questa amministrazione in campagna elettorale ha più volte sottolineato invece la possibilità di valorizzare questo immobile per attività, ad esempio, di co-working e per il rilancio delle start-up, cosa che è stata disattesa. Questa mattina in Commissione Finanze abbiamo udito anche l'assessore al patrimonio Veronica Teodoro e personalmente le ho rivolto la richiesta di conoscere i costi per una ristrutturazione e un risanamento dell'immobile, domanda alla quale l'assessore non ha saputo rispondere, non conoscendo quindi i numeri necessari per il risanamento. Questo dimostra che in realtà non è stata scelta neanche presa in considerazione questa alternativa e l'unica alternativa è la vendita degli immobili e quindi una svendita della città di Pescara senza nessun'idea di rilancio o di sviluppo.